Questa cosa la si potrebbe vedere sicuramente in tantissimi modi, una cosa sicuramente certa però è che dopo tipo 47 sessioni di calcio mercato è finita la telenovela legata a Milinkovic Savic, dopo che era praticamente davvero senza esagerare sei anni che sarebbe dovuto diventare puntualmente ad ogni sessione un nuovo giocatore della Juventus, la notizia di oggi è quella di un Milinkovic Savic che pare abbia accettato le avance della Lilal, ennesimo giocatore in Arabia Saudita, Lazio idem con patate in quanto da ciò che si dice pare che il club abbia ricevuto un'offerta da 40 milioni che bene o male era la cifra che richiedeva l'Utito, quindi a lui va benissimo, Milinkovic Savic da quello che si dice prenderà 20 milioni di euro a stagione, quindi tipo 6 volte, 7 volte il suo attuale ingaggio, quindi viene anche qui magari da capire il perché il giocatore alla fine di tutto abbia detto di sì, però la cosa certa appunto è che se quest'anno poteva sembrare da certi punti di vista un pochino più probabile l'approdo di Milinkovic Savic a Torino, ecco puntualmente come spesso stiamo vedendo nelle ultime settimane si è andato ad inserire il club arabo di turno che di fatto si è preso il giocatore, anche legittimamente no, magari nel momento in cui loro questi soldi li hanno, sono interessati a determinati giocatori, fanno delle offerte, se i giocatori accettano e i club accettano bene, altrimenti tutta quella pala di soldi la diamo ad altri perché sicuramente c'è una fila di gente disposta ad accettare le nostre proposte con tanto di tappeto rosso. E cosa c'è da dire? Fondamentalmente niente, cioè banalmente si potrebbe fare un pochino una considerazione riguardo quella che presumibilmente a questo punto sarà la carriera del giocatore, perché magari io posso capire un Cristiano Ronaldo, 15-18 anni, ai massimi livelli, sempre tra i migliori 2-3 al mondo, negli ultimi 2-3 anni della sua carriera si va a prendere veramente una pala di soldi in Arabia, che cos'è che c'è da dire? Niente, stesso discorso senza proprio citare Cristiano Ronaldo, l'elite, anche banalmente Umbrosovic, comunque è da qualche anno in un top club italiano, ha vinto comunque le sue competizioni nazionali e è andato vicino alla vincerne un paio internazionali, ma per fortuna Lukaku è stato decisivo sia in finale di Europa League che quella di Champions, però comunque dopo aver fatto la sua carriera a livelli molto importanti ha deciso anche lui per gli ultimi anni di andarsi a prendere una fucilata di soldi in Arabia Saudita. Quando parliamo di Milinkovic-Savic sicuramente parliamo di un giocatore che è sempre stato considerato tra i migliori del campionato italiano, a livello di centrocampista sicuramente, ma anche proprio a livello generale. Si parla appunto di un giocatore di 28 anni, quindi all'apice probabilmente della sua carriera e del suo fisico e se magari al posto di accettare di fare uno step superiore per mettersi definitivamente in gioco, non tanto alla Juventus ma proprio generalmente in un qualsiasi club che gioca la Champions League, dove tra le altre cose paradossalmente con questo trasferimento di fatto decide di non giocare la Champions League nemmeno con la Lazio. Tutto questo per andare a prendere i 20-25 milioni arabi per tot anni sicuramente da un certo punto di vista è legittimo perché nel momento in cui si parla della sua carriera ovviamente sono fatti suoi in secondo luogo. È giusto che massimizzi al massimo tutto ciò che ha ottenuto sapendo giocare a calcio. Quindi per l'amor di Dio sicuramente non mi metto nella posizione di poter dire io 20 milioni fossi stato in Milinkovic-Savic non li avrei mai accettati. No, perché obiettivamente non è la realtà. Fin quando non ti ritrovi in quelle situazioni è davvero impossibile giudicare. D'altro canto però si può sicuramente sì fare una considerazione riguardo il tipo di carriera. E da un certo punto di vista è anche proprio un peccato che un giocatore come Milinkovic-Savic, con le qualità di Milinkovic-Savic decida a 28 anni di fatto di chiudere col calcio veramente serio per andare a prendere soldi in Arabia dove di fatto devi fondamentalmente giochicchiare nulla più e nulla meno. Da un certo punto di vista è anche vero che in Arabia stanno facendo di quei colpi dove probabilmente il livello non è che sia tanto poi anche inferiore alla Serie A. Questo ce lo dobbiamo dire chiaramente per l'amor di Dio. Però viene da sé che come concezione di campionato ancora si parla di quel campionato come era il campionato cinese qualche anno fa dove se accetti quelle offerte a voglia puoi stare a dire hai il progetto, è carino, interessante, figo. No, prendi una pala di soldi come anche legittimo che sia, ci mancherebbe altro. E da un certo punto di vista sinceramente non per lui mi dispiace perché vedendo quanto andrà a prendere eventualmente avrà la possibilità di piangere e pulirsi le lacrime con le banconote da 500 a mani bassissime. Però è un peccato, quello sicuramente sì, è un peccato da un certo punto di vista per la carriera, da un altro sicuramente anche per la Juventus però è normale che non ti puoi neanche sempre trascinare nelle trattative non l'hai preso magari anni fa perché magari non era un obiettivo prioritario perché magari Lottito chiedeva troppo non l'hai preso quest'anno perché prima di provare l'assalto per Milinkovic Savice dovevi vendere un numero di esuberi non indifferente cosa che non sei riuscito a fare nel mentre e se da un momento all'altro arriva l'Arabia Lazio quanto vuoi, 40 milioni Milinkovic a te te ne do 20 per tot anni a meno che proprio non sia il giocatore a dire no, voglio rimanere in Europa perché sono nell'apice della mia carriera e quindi voglio dimostrare di essere davvero un top player dopo che l'ho fatto alla Lazio però non nel palcoscenico di primo piano se dice sì dice sì e quindi almeno dopo 43 sessioni di calcio a mercato è definitivamente finita la telenovela che avrebbe dovuto portare Milinkovic Savice alla Lazio tra l'altro si è anche da un certo punto di vista quasi completamente smontato il video di questa mattina dove si parlava di Pogba che guardava che era andato a far visita alle strutture dell'Al Itihad con tanto di colloquio che secondo alcuni ci sarebbe dovuto essere oggi tra la Juventus e la Lazio proprio per discutere di Milinkovic Savice la notizia invece di qualche ora dopo è che di fatto Pogba è andato là solo ed esclusivamente per motivi religiosi e personali qui tendo sicuramente a lasciare il beneficio del dubbio perché nel momento in cui è soprattutto a Gresti che si sbilanci in questa maniera evidentemente una fonte probabilmente legata alla Juve ha fatto passare questa notizia il perché è legittimo chiederselo però la vedo così sinceramente e Milinkovic Savice è praticamente ufficiale in Arabia nel giro di 4-4-8 ma d'altronde nel momento in cui si parla di cifre così tanti importanti dove la Lazio non la devi neanche convincere perché quello chiedeva e probabilmente era già nell'idea che il giocatore avrebbe lasciato in questa sessione di calcio mercato il giocatore magari inizialmente non è poi così tanto convinto del campionato poi vai lì e gli dici ti do 20 milioni l'anno viene un pochino più facile accelerare le trattative questo senza ombra di dubbio sì e da un certo punto di vista anche un peccato perché si parla appunto sempre dell'Alilal con un Allegri che per anni avrebbe voluto allenare Milinkovic Savice ma nel momento in cui Alilal ha detto di no come non l'ha fatto a Torino sicuramente a questo punto non lo potrà fare neanche in Arabia e dopo questo fa parte del gioco bene o male sarebbe stato meglio forse no a Torino non tanto per Allegri più che altro per Milinkovic Savice ma sicuramente non lo sarà nemmeno Alilal detto questo ragazzuoli nulla nulla io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve ciao Grazie a tutti.